amiche ed amici di emoti con opinioni e confronto per il quotidiano www la ragione punto e u buona giornata ospite graditissima oggi una psicoterapeuta di quelle che lavorano sul campo marta tibaldi e che vi dico subito ci si dà del tutto perché ci conosciamo da tempo abbiamo anche avuto modo di collaborare per un libro che lei ha scritto di cui ho curato una modestamente una piccola prefazione diciamo così no la domanda che ti pongo marta innanzitutto buongiorno è questa quando ero ragazzino seduto intorno al tavolo con la radio in mezzo ascoltavamo le notizie che arrivavano dopo il blocco di cuba e il terrore che c'era in tutti noi soprattutto il mio padre che aveva fatto la guerra che ci fosse di nuovo un disastro ma ben peggiore perché era un disastro nucleare siamo di nuovo più o meno in quella situazione ma non hai la sensazione tu che hai contatto quotidiano con le persone che ti si rivolgono a te per i loro problemi che ci sia una quasi una sorta di indifferenza nei confronti di questo pericolo di questa preoccupazione quasi che le altre cose ovviamente importanti come le bollette come il covid eccetera fossero in qualche modo superiori rispetto alla minaccia nucleare sì allora intanto dobbiamo forse collocare quello che sta accadendo ora nel periodo che abbiamo vissuto a partire dal 2020 perché i pazienti dal 2020 sono stati esposti inizialmente a questo trauma della pandemia e successivamente poi ad altri eventi catastrofici come la guerra appunto ora la minaccia nucleare e però anche il cambiamento climatico allora che cosa è successo ai pazienti inizialmente hanno vissuto la pandemia soprattutto come trauma personale quindi lì abbiamo lavorato in un certo modo mentre adesso un po' per l'accumulo di quello che sta accadendo un po' perché il pericolo è come più vicino sebbene non sia rappresentato spesso a livello cosciente è però vissuto a livello corporeo allora che cosa ha notato e secondo me che cosa poi importante fare in questo momento portare l'attenzione volontaria questo è quello che possiamo fare noi in seduta proprio sui vissuti del corpo perché c'è una sorta di dissociazione tra la mente e il corpo quindi a livello anche di razionalizzazione quindi uso difensivo della psiche le persone possono stare in quella posizione che dicevi tu se però andiamo a vedere come stanno fisicamente troviamo sempre un disagio di solito piuttosto forte allora quello che a noi interessa secondo me poi quello che io faccio in seduta è in qualche modo renderli consapevoli del fatto che comunque che ne siano coscienti o meno sono esposti a un pericolo il pericolo c'è e da qualche parte il corpo lo registra allora è interessante vedere che tipo di risposta le persone individualmente e collettivamente danno al vissuto del pericolo al rischio perché lo possiamo negare lo possiamo intellettualizzare lo possiamo razionalizzare lo possiamo dissociare quello è soprattutto quello che vediamo no dividiamo la realtà in bianco e nero in buono e cattivo cioè evitiamo la tensione degli opposti che ci chiederebbero un pensiero critico e anche reggere la conflittualità allora noi vediamo che in questo momento le persone sembrano poco attrezzate nel confrontarsi con il conflitto esterno ma anche interno per cui non tengono insieme posizioni opposte quindi che fanno sposano un'unica posizione buttano a mare quell'altra e così abbiamo risolto il problema però questo se apparentemente vale a livello mentale non vale a livello del corpo come vediamo gli effetti del corpo li vediamo per esempio in un aumento dell'ansia e quindi iperattività oppure li vediamo in un aumento della irritabilità e dell'aggressività le persone sono più irritabili appunto reagiscono prendono fuoco subito oppure al polo opposto diventano si spengono quindi perdono energia e entrano in una fase depressiva allora questi sono già segnali che ci mettono in contatto con il pericolo oggettivo che noi stiamo vivendo poi un altro elemento interessante però è vedere quanto questi vissuti di pericolo possano anche richiamare esperienze passate perché delle volte la reazione non è tanto al pericolo oggettivo sta per cadere la bomba atomica o potrebbe cadere la bomba atomica quanto il timore di rivivere esperienze di collasso dell'io e questo lo possiamo cercare e ognuno di noi può cercare delle tracce di questo tipo abbiamo vissuto esperienze di grande impotenza tali da farci sentire di non avere più presa sulle cose quindi di essere travolti ecco queste tracce potrebbero essere riattivate in questo momento però io credo che quello che noi possiamo fare e che manca tantissimo a livello anche collettivo noi dobbiamo creare degli spazi di riflessione ma veri sulla verità del corpo e quindi poi su come la psiche può codificare la verità del corpo e la verità della materia vivente di cui siamo composti quindi spazio di riflessione e capire che le difese anche le più disfunzionali sono un modo magari molto indiretto e distruttivo di cercare una competenza allora io credo che questa sia una cosa importante da fare io la faccio naturalmente nella seduta di analisi il mio spazio è uno spazio piccolo e individuale però partiamo da qui per pensare poi anche eh qualcosa a un livello più ampio riflessione consapevolezza del corpo vedere che tipo di difese mettiamo in atto anche disfunzionali e capire che comunque quello è un tentativo di diventare competenti rispetto a un evento che altrimenti ci travolge sia in termini eh mentali che emotivi quindi diciamo questo è un po' il mio approccio dal punto di vista della informazione la gente eh in questo periodo sta un pochino più eh più che leggendo i giornali che purtroppo quelli sono in una crisi che sembra ormai riversi irreversibile però eh c'è una grande tensione ad esempio nei talk televisivi e anche ovviamente su internet soprattutto da parte dei giovani hai la sensazione che l'informazione stia facendo bene il suo lavoro? Io ho qualche perplessità perché mi sembra che nel questo tipo di informazione poi si tenda sempre a parlare per massimi sistemi mentre dovremmo ritrovare l'umiltà dello spazio di conoscenza che abbiamo allora parliamo di ciò che sappiamo altrimenti entriamo un po' in quello che eh ormai se ne parla molto questo effetto Danny Kruger cioè la la presunzione di sapere eh gli autori chiamano questo effetto la meta ignoranza cioè il fatto che ognuno parla facendo anche esprimendo delle teorie teorizzando delle cose pensando di sapere in realtà teorizza cose che non sa quindi si parla e si si fanno delle affermazioni che spesso non sono suffragate da niente se non dalle proprie opinioni ecco questo io lo trovo un modo di fare se è un'informazione pessimo perché legittima il non sapere come se fosse un sapere quindi ritrovare l'umiltà del nostro piccolo campo di sapere lì dire delle cose per il resto è meglio tacere. Un'ultima domanda cara Marta e secondo te soprattutto a livello di adolescenti come un padre o una madre o naturalmente come può affrontare questo momento storico così particolare così diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto negli anni passati non dimentichiamoci che noi siamo un paese che ha vissuto gli anni del terrorismo quindi insomma i morti per strada ci sono stati sono stati anche tanti e hanno creato angoscia nei ragazzi no mi ricordo quando non si poteva uscire il sabato perché non sapevi esattamente cosa potesse accadere in una piazza piuttosto che nell'altra ecco ma come si può affrontare in famiglia una tematica di questo tipo? Allora qui dobbiamo fare un passo indietro perché il grande problema delle famiglie e quindi degli adolescenti a cascata è il fatto che i genitori non insegnano più ai figli a gestire il conflitto in primis a gestire il senso di frustrazione no? Questi bambini che sono educati ad avere tutto non gli si può dire di no e quindi diventano debolissimi allora non reggono la frustrazione non sanno come gestire il conflitto perché spesso i genitori usano quella modalità di cui parlavo all'inizio cioè bianco nero pensiamo l'insegnante che mette un brutto voto il genitore va a affrontare l'insegnante invece di insegnare al figlio a accogliere un altro punto di vista confrontarsi e trovare un passo evolutivo rispetto a questo quindi io credo che in primis dobbiamo ripensare i genitori i genitori devono poter dare le frustrazioni e insegnare ai figli come superare le difficoltà e gli oggetti che non arrivano subito i desideri che non vengono immediatamente soddisfatti e poi imparare a gestire il conflitto gestire il conflitto significa confrontarsi con eh posizioni diverse ascoltare non negare immediatamente la realtà dell'altro l'opinione dell'altro negoziare i significati e procedere ricordandoci che gli adolescenti sono in una fase evolutiva è una crisi di passaggio evolutivo quindi stanno cercando anche loro nuove competenze da quelle dei bambini a quelle dei giovani adulti bene noi cerchiamo di capire che sono le competenze l'oggetto a cui noi dobbiamo tendere e per avere delle competenze si fa un lavoro non arrivano così mentre l'atteggiamento anche dell'informazione è eh sì vabbè insomma un gran calderone chiacchieriamo eh fine del discorso abbiamo fatto il nostro punto e questo insomma mi sembra che non sia molto evolutivo anche rispetto agli adolescenti ovviamente speriamo di non aver fatto anche noi in questo caso solo il nostro ma di avere dato un contributo alla riflessione che possa essere utile a tutti sia all'adulto in quanto tale sia all'adulto in quanto genitore. Marta grazie è stato un piacere come sempre e alla prossima perché avremo sicuramente modo di parlarne ancora di questi argomenti. Benissimo arrivederci a tutti.